I consiglieri di opposizione Arcensi, Andrea Ravagno e Bruna Todeschi, hanno scritto al sindaco Betta in merito ad un breve tratto di via San Sisto in direzione nord-sud che è a senso unico e che viene poco rispettato e quindi a loro parere pericoloso. I due consiglieri sostengono che tale tratto di strada andrebbe ripristinato a doppio senso per alcune ragioni, prima fra tutte perché la maggior parte degli automobilisti ignora il divieto e quindi non è raro incontrare vetture che percorrono tale tratto contromano, ossia da via Damiano Chiesa salendo lungo via San Sisto. I controlli dei vigili, proseguono i due consiglieri, sono inesistenti quindi tale divieto è come se non vi fosse e inoltre non se ne comprende l'utilità, anzi risulta dannoso perché a causa della realizzazione del rondò di via Roma via Garberie costringe la gente che abita lungo tale via a giri assurdamente lunghi per tornare a casa con dispendio di tempo e di benzina. La proposta di Ravagna e Todeschi è quindi quella di sopprimere il divieto e chiedono al sindaco Betta il motivo dell'istituzione di tale senso unico.